Carme in San Diego e uno di loro potrebbe scoprirlo Emanuele Begoraro Giancarlo Raffa Francesco Monaco L'episodio di oggi si intitola una fiaccola per becchi un caso disperato che comunque noi tenteremo di risolvere con l'aiuto del nostro agente speciale Mauro Serio Ciao ragazzi Siete fantastici Come va oggi? Allora siamo pronti per cominciare Noi siamo pronti? Siamo carichi? Siamo caldi? Sapete perché? Guardate un po' Guardate un po' I nemici dell'agenzia ASSO sono ancora a spasso E allora capo Ci può dire qualcosa oggi? Sì vi posso dire Vi posso dire che l'anonima Mascalzoni capeggiata da Carmen San Diego ha colpito ancora Questa volta è toccato a New York offrire alla malvagità di questi criminali senza scrupoli uno dei suoi monumenti migliori più importanti la statua della libertà simbolo per generazioni di emigranti di speranza e di progresso Ma non è il momento di commuoverci perché alle prime luci dell'alba la muscolosa Betty Bulldozer ha scalato da par suo la statua e ne ha rubato la torcia per farne il simbolo delle bulldozeria di una particolare versione dei giochi olimpici che include i suoi sport preferiti come salto del cancello e lancio di antifurto Bene 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 Guardatevi ora una recente immagine di Betty Bulldozer ribattezzata da alcuni miei colleghi particolarmente istruiti con Mens Nana in corpore sano Oh 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 ricercato Oh 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 ricercato Bene gente ed ora la vostra importante missione Segugi Voi dovete acchiappare Betty Bulldozer riportare la fiaccola al posto suo e naturalmente catturare Carmen San Diego Grazie capo Bene Allora Segugi per cominciare avete 50 punti a testa ogni risposta esatta vale 10 punti due investigatori che riusciranno a totalizzare il maggior punteggio proseguiranno le indagini con me è chiaro? E allora capo noi siamo pronti ci dica qualcosa Forse non tutto è perduto Detective Pare che la vita minica ladra si stia allenando in gran segreto per la Betty Maratona che consiste nel percorrere 42 km di corsa e con un cinghiale sulle spalle facendo avanti e indietro da Potenza capoluogo di regione Amatera città nella quale Betty se non è particolarmente stanca potrà allenarsi anche al lancio dei sazi Bene Bene ragazzi allora voglio sapere da voi dovete indicarci il nome di questa regione Abruzzo, Molise o Basilicata? Vi ricordo gli indizi capoluogo e Potenza Matera è un'altra grande città è I Sassi I Sassi Avanti vediamo cosa mi rispondete Allora Emanuele Basilicata Giancarlo Basilicata Francesco Basilicata e quindi senza alcuna difficoltà si aggiudicano i primi 10 punti e andate tutti e tre a 60 punti ora prima di proseguire le nostre indagini vediamo di conoscerci un po' meglio eh investigatori cominciamo da Emanuele dimmi un po' di te Vengo da Roma frequento la terza media pratico calcio pratico calcio e mi piacerebbe diventare ingegnere elettronico e non ho nessun ob in particolare Bene però ingegnere elettronico Giancarlo invece? Allora io vengo da Napoli frequento la terza media pratico il kickboxing il kickboxing calma eh e poi qualche hobby in particolare le armi da fugo cosa? armi da fugo pistole collezioni armi da fugo adesso che hai? 13 anni 14 14 e a 18 cosa fai? organizzerai cosa? una mostra di car armati mi piacerebbe diventare un poliziotto anticippo o un attore ok allora facciamo una cosa vieni un po' qui scusa va bene allora tu sei adesso una cosa onorario fai tu il coso perché lui è più bravo di me a fare il poliziotto allora facciamo un po' di domande allora tu sei Mauro? eh sì parlami un po' di te io vengo da Trieste e il mio hobby preferito è giocare con i bambini e io detesto le armi di a fugo mi fanno paura a me allora sei un giudurre all'uno? sono un giudurre se non ti permette adesso vieni qua basta perché sei basta grazie non si fa smontare da niente questo nostro investigatore bene abbiamo bisogno di persone coraggiose così Francesco l'ordimi di te invece anch'io frequento la terza media sì pratico come sport il tennis ho molti hobby tra i quali leggere e costruire modelli di navi da guerra e da l'anno vorrei fare il pilota di elicotteri beh ragazzi oggi abbiamo un terzetto veramente speciale speciale abbiamo un futuro ingegnere un futuro poliziotto o comunque attore e un futuro pilota di elicotteri questa volta Carmen Sandiego deve tremare solamente a sentire la parola Asso Asso allora adesso proseguiamo le nostre indagini siamo belli caldi vi vedo vi vedo siamo pronti e allora giusto per l'appunto cosa facciamo noi ci sintonizziamo con una radio della polizia per sapere se sanno degli spostamenti su questa Betty Bulldozer mascalzona accoltiamo volante sei ci sei volante sei volante sei ci sei o non ci sei se ci sei vai al confine con la Germania attraversalo punta verso Copenhagen è la capitale cerca la sirenetta il monumento più famoso della città una volta lì che aspetta Betty Bulldozer hai capito volante sei ma ci sei o non ci sei bene bene adesso basta così perché sennò poi ci confonde allora voglio sapere da voi di quale paese si tratta quindi Olanda Danimarca o Svezia vi ricordo a cui confina con la Germania dove c'è la splendida splendida Copenhagen è la sirenetta che è questo simbolo è vero allora vediamo un po' che cosa mi rispondete Emanuele Danimarca Giancarlo Danimarca Francesco Danimarca e la risposta esatta è Danimarca e quindi altri dieci punti a testa già lo vedo già lo vedo che sarà una gara ardua dura scusate si avanti avanti che bella saga ma quasi quasi è tutta per lei io ci muoio devo correre in retro devo correre in retro beh grandioso grandioso ma sai che io più quella guardo e più mi ricorda era il vostro agente a Lavana eccolo lì eccolo lì lei allora mi ha portato i sigari che cos'è? no mi sono scordato eh no eh no una volta che vai a Lavana non mi porti i sigari ma non ha portato Cerabetti cerabetti? sì cerabetti ma cerabetti l'isola più grande dei Caraibi si allenava al lancio di macchine d'epoca conduttore compreso non faccia lo spiritoso conducente compreso ecco io sto muorendo io sto penseremo penseremo e la morte beh grandioso era un uomo valoroso coraggioso e morto per la patria buttatemelo di fuori adesso per favore grazie allora ragazzi voglio sapere da voi come si chiama l'isola dove si allena Betti Haiti Cuba o Bahamas vi ricordo gli indizi Havana Sigari è l'isola più grande dei Caraibi allora Emanuele Giancarlo Francesco vediamo un po' allora Emanuele Haiti Giancarlo Cuba Francesco Cuba e la risposta esatta è Cuba Cuba per cui Emanuele rimane a 70 punti mentre Giancarlo e Francesco vanno a 80 a 80 io già lo vedo oggi sarà difficile riuscire attenzione sarà difficile che cosa adesso è il momento delle risposte lampo voi adesso avete l'opportunità di arrotondare il vostro punteggio rispondendo esattamente alle tre domande che vi farò ogni risposta esatta vale 5 punti ora io vi consiglierei di stare attenti con il pulsante più che attenti pronti con il pulsante perché sto per partire con la prima domanda che è questa l'isola di Cuba fu scoperta il 28 ottobre 1492 e battezzata Juana da un notissimo navigatore si trattava di Magellano Colombo o Cortez Francesco Colombo esatto 5 punti Francesco Colombo seconda domanda il carnevale cubano dura 15 giorni e si svolge in estate al termine della zaffra cioè la raccolta del principale prodotto dell'agricoltura cubana di quale prodotto si tratta canna da zucchero grano o riso prezzo che il tempo scade e il tempo è scaduto ragazzi lo dico io canna da zucchero canna da zucchero terza domanda e ultima una delle maggiori attrazioni di Cuba è costituita dalle spiagge bianchissime di una località turistica che dista 140 km dalla capitale come si chiama Baradero Miami o Castro Giancarlo no sbagliato non sapete dimmi Emanuele Castro no no Francesco dimolo tu dunque è Baradero Miami o Castro Baradero è giusto è incredibile è giusto Baradero è incredibile quindi la situazione è questa ora Emanuele va a 70 punti o perlomeno rimane Giancarlo rimane a 80 punti Francesco si porta a 90 punti oh adesso ragazzi il problema nostro è questo perché sento che siamo sulla strada giusta eh per catturare Betty Bulldozer e recuperare la torcia della statua della libertà capo eh è vero no cosa stavi dicendo carissimo dicevo che adesso sicuramente Betty Bulldozer sente il nostro fetto sul collo e quindi siamo lì per catturarla e recuperare la torcia della statua della libertà sì 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 credo proprio di sì Mauro credo proprio di sì ma tu sai anche molto bene che a me interessa mettere le mani su Carmen Sandiego ah vabbè e quindi come è vero che chi trova un amico trova un tesoro segugi attenzione voi troverete l'Europa ai vostri piedi perché perché io offrirò un viaggio in una capitale europea a sua scelta a chi mi catturerà Carmen Sandiego bene capo non si preoccupi faremo di tutto grazie allora ragazzi il nostro obiettivo ve lo ricordo nel caso se lo fosse scordato impossibile è quello di catturare Carmen Sandiego però prima bisogna catturare Betty Bulldozer e farci ridare la torcia della statua della libertà e allora cosa facciamo noi a questo punto della nostra indagine ci sintonizziamo con il nostro reparto di intercettazioni telefoniche che ha registrato una telefonata tra Carmen Sandiego e Betty Bulldozer ascoltiamola Carmen non riesco a trovare uno stadio abbastanza grande per le mie bulldozeria di prendi la torcia che hai rubato e vai in una delle mie città preferite di Spagna con le sue ramblas la sagrada famiglia va bene ma dove vado a gareggiare? nello stadio di quella città dove sono state disputate le ultime olimpiadi nel 1992 allora va bene sì ma ricordati che da quelle parti devi usare il catalano ah non fa niente io nelle città che non conosco vado sempre a piedi bene allora di quale città si tratta Segugi Siviglia Marsiglia o Barcellona vi ricordo la Spagna olimpiadi del 1992 e la lingua principale è il catalano Emanuele Barcellona Giancarlo Barcellona Francesco Barcellona e la risposta esatta è Barcellona quindi Emanuele a 80 punti va Giancarlo a 90 e Francesco tocca ormai quota 100 per carità ma maresciallo mi scusi l'educazione ma io c'ho una cosa troppo importante da dirle non è che potrebbe venire fuori un momento ma per carità vengo subito scusate ragazzi signora cosa succede signora mi preoccupo maresciallo quei poveri eschimesi ritrovarsi così all'improvviso senza casa nell'isola più grande della terra ricoperta dai ghiacci per oltre l'85% ma cos'è un terremoto ma no per carità un maremoto per carità un cataclisma spaventoso no è Betty Bulldozer che ha deciso di vincere il record del mondo di demolizione a capocciate di igloo per carità ma che lo spezzatino con le patate mi si brucia per carità vada signora grazie grazie se non mi prendo un infarto oggi allora ragazzi avete sentito cosa ha detto la portiera e allora io voglio sapere da voi di quale isola sta demolendo Betty l'Islanda la Groenlandia o l'Irlanda vi ricordo gli indizi è l'isola più grande della terra è piena di schimesi tra un ghiaccetto e l'altro poiché è ricoperta per l'85% dai ghiacci cioè ghiacci e schimesi ghiacci e schimesi allora Emanuele Groenlandia Giancarlo Islanda Francesco Groenlandia la risposta esatta è Groenlandia Groenlandia e quindi Emanuele arriva a quota 80 no 90 scusa a pari merito con Giancarlo mette Francesco e a quota 110 sono veramente soddisfatto è una è un'indagine come dire piena di pathos piena di pathos sì piena di pathos attenzione però io a questo punto dell'indagine vado qui fuori perché senz'altro troverò il cameriere che sicuramente ci dirà qualcosa cosa che ci riguarda no 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 ne ho già detto che qua non ci abbiamo né tagos né tortillas capirà il cuoco di barletta come farebbe no 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 non porta il sombrero no 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 lo porta il sombrero e odia detesta anzi le rovine a secche e poi non è mai stato nella vostra capitale no perché odia il traffico si figuri 19 milioni di abitanti ui 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 ma io a lei la conosco sa vuole una pizza si beh beh ringraziamo quindi il nostro cameriere con questo cliente perché speriamo che si trovi bene con la cucina italiana invece torniamo a noi ragazzi e voglio sapere dove si trova la città descritta dal nostro cameriere e qual è voglio dire Tegucicalpa città del Messico o Managua vi ricordo gli indizi sombrero rovine a secche e la città di 19 milioni di abitanti vediamo allora Emanuele città del Messico Giancarlo Francesco città del Messico e la risposta è esatta città del Messico quindi Emanuele e Giancarlo vanno a 100 punti mentre Francesco si porta a 120 e con una furia di un uragano siamo arrivati all'ultima domanda di questa prima fase solo che adesso sarete voi a decidere quanto voler rischiare attenzione un attimo sto spiegando ancora una cosa poiché se la risposta sarà esatta il punteggio da voi rischiato verrà sommato dal vostro totale altrimenti verrà sottratto dal vostro totale potete rischiare come senz'altro ben saprete 0, 10, 20, 30, 40 o 50 punti ora noi sappiamo che Betti si sta nascondendo in questa parte del mondo Somalia Chad Kenya e adesso fate la vostra puntata bene vedo che fremete vedo che fremete avete già fatto la vostra puntata però adesso un po' di televisione con la nostra deliziosa sopopera ho un'idea scappiamo in Africa orientale a Nairobi così potremmo vedere i rinoceronti del parco nazionale no non posso perché? cosa? mi nascondi? perché quel paese è il più grosso produttore al mondo di piretro che cos'è il piretro? un insetticida e poi c'è Betti lo sapevo mi tradisci con un'altra? c'è qualcuno? eh? allora di quale paese parlavano questi protagonisti di questa tremenda telenovela se io mi accascio ogni volta che li sento allora Kenya Somalia o Chad vi ricordo gli indizi Africa orientale Nairobi e il piretro vediamo che cosa rispondete voi Emanuele Giancarlo allora siamo pronti siamo pronti fammi vedere quanto hai puntato Emanuele 50 punti la tua risposta qual è? Kenya ed è esatta e vai a 150 punti Giancarlo quanto hai puntato? 50 punti la tua risposta è? sono male e mi dispiace scendi a 50 punti poiché la risposta è errata Francesco fammi vedere quanto hai puntato 50 punti la tua risposta? Kenya e anche per te 50 punti e vai a 170 quindi Emanuele e Francesco proseguiranno le indagini con me yeah mentre con grosso rammarico Giancarlo dobbiamo dobbiamo salutarci però il capo ha qualcosa da dirti ascoltiamolo un attimo caro Giancarlo grazie per il tuo contributo alle nostre indagini l'agenzia ASSO ha pensato comunque anche a te con un dono che ti farà piacere ricevere l'orologio di Carmen San Diego e questa bellissima elegante felpa alla prossima inchiesta Giancarlo beh Francesco Emanuele sappiamo adesso che in Kenya si nascondono Betty Bulldozer e la torcia della statua della libertà e questo sarà il nostro primo obiettivo prima di arrivare alla nostra fase finale della nostra indagine quello quindi di catturare Carmen San Diego però l'agenzia ASSO non manda mai i suoi investigatori allo sbaraglio senza un'adeguata preparazione non è vero capo? è vero al 100% eccoci dunque in Kenya più esattamente nella capitale Nairobi ma guardiamo un po' insieme che cosa hanno combinato per noi i solerti ragazzi dell'archivio fotografico? allora ecco la Uhure Highway grande arteria della città che scorre lungo l'omonimo parco è probabile che Betty la utilizzi per il lancio di elefanti di elefanti questo invece è il museo nazionale ripartito in molte interessanti sezioni fra cui quella dedicata agli ambienti naturali del paese alla cultura delle principali etnie alla fauna avicola ed ora eccoci qui al parco nazionale di Nairobi la visita è di grande interesse vi è rappresentata praticamente tutta la fauna del paese ad eccezione degli elefanti all'interno si trova anche un piccolo orfanotrofio dove vengono raccolti i cuccioli bisognosi di aiuto perché no? ed infine un'immagine del grattacielo del Kenyatta Center che prende il nome dal primo presidente del Kenya eletto nel 1964 quando il Kenya divenne una repubblica bene bene miei segugi questo era il Kenya questa era Nairobi ed è qui che noi dobbiamo scovare Betty Bulldozer e restituire alla statua della libertà la sua chiacola allora Emanuele Francesco puoi anche lasciarla alla valigetta sai non te la porta via nessuno qui bene bene allora siamo arrivati dove? dimmelo tu dove siamo arrivati? al giorno del tabellone ah sì no volevo dire in quale paese siamo arrivati te lo ricordi? in Kenya in Kenya esattamente Emanuele in Kenya dove si nascondono che cosa? la torcia della statua della libertà il mandato di cattura et Betty Bulldozer ora chi per primo tra voi due riuscirà a mettere insieme questi tre elementi avrà la possibilità di passare alla fase successiva della nostra indagine e si sarà capace di catturare Carmen Sandiego e basta così allora cominciamo con Francesco vediamo Parco Nazionale Parco Nazionale Parco Nazionale niente da fare Emanuele Moschea Moschea niente Ton Tri Caffè andiamo in cattura Ton Tri Caffè c'è il mandato di cattura prosegui così prosegui così vai Francesco Moschea e abbiamo appena poco fa eh vabbè non ti preoccupare Emanuele Ton Tri Caffè Ton Tri Caffè serpentario e c'è Betty Bulldozer e c'è Betty Bulldozer manca solamente il bottino yes Riffed Valley Riffed Valley niente da faro Francesco Ton Tri Caffè andato di cattura serpentario Betty Bulldozer Villaggio Masai Villaggio Masai niente da faro Emanuele Ton Tri Caffè andato di cattura serpentario Betty Bulldozer ambasciata italiana ambasciata italiana ambasciata italiana niente Francesco Ton Tri Caffè andato di cattura serpentario Betty Bulldozer stazione di polizia stazione di polizia il bottino Francesco yeah Emanuele e adesso richiamoci tutti qui dietro poiché Francesco ora dovrà mettere in gabbia Betty Bulldozer mettere in gabbia mettere in gabbia mettere in gabbia bella 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 ebbene allora Francesco tu e io proseguiremo la nostra indagine come detto prima invece dobbiamo salutare Emanuele che è stato un valente investigatore bisogna ammetterlo però purtroppo adesso ci dobbiamo salutare anzi il capo ha senz'altro qualcosa da dirti di più interessante sentiamo Emanuele Emanuele valido è stato il tuo contributo per le nostre interessanti e complesse indagini perciò non uscirai dalla mia agenzia senza aver prima ricevuto l'orologio di Carmen Sandiego questa bellissima film ed una radio multibanda ciao Emanuele ciao grazie bene allora Francesco siamo adesso tu cosa vogliamo fare vogliamo un caffè no perché hai pochi secondi di tempo per decidere in quale capitale europea vorrai andare se riuscirai a catturare Carmen Sandiego a te voilà va bene va bene si capisce un attimo scusa rispondo sei pronto mamma mia si subito è per te pronto pronto chi è con chi parlo con Francesco ah bravo piedi piatti mi hai peccata eh che vuoi fare e ora io ti aiuto a catturare Carmen Sandiego bravo grazie figurati sai dove puoi trovarla tu cerca la in Asia grazie dell'informazione figurati ciao va bene grazie grazie a Betty Bulldozer e allora Francesco ti andrebbe di farti un bel viagiotto in Asia adesso eh perché no capo allora noi siamo pronti per partire ci dà qualche ultima indicazione e noi partiamo si allora con queste manette Francesco non vedo l'ora di mettere Carmen Sandiego al fresco quindi mi raccomando datti da fare ma prima di tutto ascoltami perché ho una lista di posti dove è stata vista Carmen attenzione allora Carmen è stata vista in India Afghanistan Mongolia Birmania Malaisia Oman Cambogia Giappone Corea del Nord Kazakistan Yemen Sri Lanka Thailandia ed ora Francesco vola va bene va bene a questo punto devi vincere se no mi sa che ti picchiano qui questa ovazione qui allora Francesco adesso tu dovrai inseguire Carmen Sandiego attraverso sei paesi di questo continente che io adesso ti andrò a dire oh per individuare questi paesi dovrai utilizzare questi segnalini luminosi che sono qui a tua destra li vedi? yes se la risposta sarà esatta sentirei questo suono se invece sarà sbagliata sentirei quest'altro suono ora per ogni paese hai due possibilità eserite le quali si passa al paese successivo allora hai 45 secondi di tempo per individuare aiutante prego 45 secondi di tempo per individuare i sei paesi catturare Carmen Sandiego e vincere il tuo viaggetto che farai con chi? con papà e mamma voilà tutti e due non so se si potrà no vabbè vabbè questa cosa qui vabbè se poi si vedrà dopo intanto vediamo di catturare questa mascalzona allora ah sì dunque mi stavo dimenticando che bisogna dire i nomi se no come si fa e allora stavo per partire col primo sto per partire col primo parto no volevo dire devo partire dicendolo allora il primo è l'India esatto esatto Kazakistan Kazakistan hai sbagliato hai sbagliato andiamo avanti Corea del Nord lascialo stare Corea del Nord Corea del Nord esatto esatto Birmania 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 è sbagliato è sbagliato è sbagliato siamo avanti uguali andiamo avanti Oman 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 Viroman quanto è bello no quello è un'altra cosa esatto Malaisia Malaisia esatto Cambogia 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 e vabbè comunque bravo di più di più un po' di più voglio sentire un po' di più perché comunque bravo comunque è stata un'ottima un'ottima indagine questa è che però purtroppo Carmen Sandiego fugge ancora capo non sappiamo cosa dire siamo disperati eh lo so lo so quel serpente velenoso di Carmen Sandiego continua a fuggire e a strisciare ma noi non ci perdiamo d'animo vero Francesco continueremo a darle la caccia tu comunque sei stato di validissimo aiuto per la nostra indagine ed io voglio premiarti con l'orologio di Carmen Sandiego questa bellissima felpa ed un ed un meraviglioso lettore di Compat Disc alla prossima inchiesta Francesco ciao ciao eh lo so io sono un po' deluso e sono un po' dispiaciuto ma non tanto per te perché tu hai fatto il possibile è che quella mascalzona di Carmen Sandiego ce la fa quasi sempre franca non è detto però in questo caso ce l'ha fatta e noi allora cosa faremo nella prossima avventura continueremo a chiederci che fine ha fatto Carmen Sandiego yeah l'ossi Groenlandia va cantando vecchi blues non c'è scappo se decide di portarsi via la giungla di che fine ha fatto Carmen Sandiego arriva il match che fine ha fatto Carmen Sandiego 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 scorri banda per il mondo da Pechino a Barcellona la sua mano è molto lesta da Chicago a Tintu che fine ha fatto da Bordo salirai venti in pompa per la Cina dimmi che fine ha fatto Carmen Sandiego ruba i laghi scandinavia e i cammelli nel salara dal Mar Rossi come l'antia va cantando vecchi blues non c'è scappo se decide di portarsi via la giungla di di Rio franco Carmen Sandiego arriva il match field d'Otchio via Roma e Milano Parigi Argentina e poi con l'era se svaliggia in Pakistan manenato a Puerto Rico ma di questo non contenta voi borseggia anche il Perù ha sorpreso tutti quanti con i gioielli del Burundi dimmi che fine ha fatto Carmen Sandiego oh dimmi che fine ha fatto Carmen Sandiego e allora che fine ha fatto Carmen Sandiego che fine ha fatto Carmen Sandiego oh dimmi che fine ha fatto Carmen Sandiego che fine ha fatto Carmen Sandiego che fine ha fatto Carmen Sandiego che mi ha fatto Carmen San Diego che mi ha fatto Carmen San Diego che mi ha fatto Carmen San Diego per carnevale lasciate stare i nasi finti e le parrucche vestitevi da fortunati con il biglietto della lotteria del carnevale di Viareggio e Putignano è facile 3 miliardi di primo premio e un carro di premi settimanali una sfilata di biglietti che va dalla Toscana alla Puglia e centinaia di occasioni per ballare con la fortuna lotteria del carnevale di Viareggio e Putignano vincere è uno scherzo Nesquik il cioccolato e l'alleginia la compagnia Nesquik il faboloso è scatenato col cioccolato se lo prendi per me rendo un vero colazione col sapor di cioccolato rende il latte prelibato Nesquik sentita la novità? è Nesquik dessert goloso, fresco, cremoso cercalo nel banco frigo col sapor di cioccolato Nesquik mi ha conquistato quando avevo voglia di uno snack sfizioso erano guai fortuna che oggi c'è Spidi Pizza Findus la prima pizza che va anche nel tostapane Spidi Pizza Findus amici in cinque minuti amici nuova da Findus burro, giglio, latte da quando Giglio regala le tazze con le ruote? non immaginate quanto buon latte bevono i miei bambini e allora? servizio in camera! solo Giglio regala le ruotazze latte e burro Giglio il fiore della qualità un tubo! cosa ci sarà dentro? come si sboccia un'arancia quando ha un guscio croccante! cosa si scioglie in una bocca di cioccolato? questo è il mar rosso? lo sto vedendo rosso! se ti è diverti e sbarti perché ad esempio anche l'acqua del mare con degli apparecchi che si chiamano dissalatori si depura dal sale e si può bere bravo! ma dove l'hai letto? con il giornalino inizia la nuova serie di conoscere insieme con il pratico raccoglitore per conservare tutte le schede dedicate a scienza e tecnica bravo! brava! bravi! con questo numero del giornalino le prime otto schede e il raccoglitore cioccos cioccolato a colazione ciocca i cioccos il cereale crocca se lo schiocchi nella bocca cereali da crocare cioccolato da impazzire cioccos cioccos cereali da crocare cioccos 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 di Kellogg's parte di una colazione completa e il e il